Il sito archeologico di Camarina in territorio di Ragusa esiste da 2600 anni, ha resistito a tutto, il tempo, l'incuria, l'abbandono a parte della sovrintendenza e beni archeologici e culturali, all'aggressione delle serre e persino a un villaggio turistico di lusso. Dopo 26 secoli però sta per scomparire, nel giro di un solo anno buona parte del superimetro che da sul mare è stato letteralmente divorato all'erosione costiera che mai fino a quel momento l'aveva sfiorato. L'idea più semplice e come sempre fino ad ora la più efficace sui motivi dell'erosione sta nel prolungamento del braccio del piccolo porto della vicina Scoglitti. Non è certo ma tre denti lo dicono tutti, specialisti del settore compresi. L'allarme su Camarina è stato lanciato ai primi del gennaio 2009 con un video su YouTube che documentava l'erosione quando era ancora all'inizio. Nelle prime settimane si è pensato che la causa di tutto fossero le mareggiate causate da un pessimo inverno. Poi si è capito che l'inverno non c'entrava nulla perché il mare continuava a mangiare terra e storia anche in estate. A un anno dalla prima denuncia su internet arriva la cavalleria, un sopralluogo della sovrintendenza ai beni archeologici di Ragusa accompagnata da una delegazione di legambiente capitanata responsabile regionale per i beni archeologici Gianfranco Zanna. Prima si era mosso poco o nulla, oggi tutti si accorgono che Camarina sta sparendo a una velocità impressionante. Nell'anno che separa la prima denuncia dalla prima presa di coscienza delle autorità, le tv locali hanno fatto il loro dovere, passando comunicati, facendo servizi, andando alle conferenze stampa dei due comitati spontanei nati per salvare il sito archeologico. La giusta cassa di risonanza che ha permesso a chi sta lontano da Camarina di rendersi conto che stava diventando veramente troppo tardi. Abbiamo avuto un riscontro terrificante, ci sono in due settimane 10 metri di arretramento della linea di costa, quindi siamo a un metro dalla torre. Allora questo è una cosa che non consente neanche di scrivere la lettera, non c'è neanche il tempo di farlo, dobbiamo immediatamente intervenire. Abbiamo avuto la disponibilità da parte del comune di Ragusa per poter vedere di intervenire già in qualche maniera come somma urgenza, ma proprio come comune, perché noi non ce la facciamo a farlo e anche con tutta la buona volontà passerebbe comunque a minimo un mese. Un mese non è un tempo che non possiamo permettercelo. Quindi questo immediatamente. Stiamo finendo l'intervento di messa in sicurezza dei 70 mila euro, famosi più IVA, eccetera, insomma 100 mila della perizia data ci concessa dall'assessorato regionale. In contemporanea stiamo definendo le ultime parti di tutto il parco come progetto POR, che quindi presenteremo. Quindi parco con annesso museo, ma restituito alla fruizione pubblica, proprio come merita di fatto, come giusto che sia. Oltre 2 milioni di euro sono in arrivo, ma verranno distribuite tre comuni all'interno dei quali ricade il sito, Ragusa, Vittoria e Santa Croce Camerina. È evidente che serve una sola testa che decide perché la fretta è troppa. Sullo sfondo la vecchia deve trasformare Camerina in un parco archeologico che, essendo un'autorità autonoma dotata di un bilancio, potrebbe intervenire in fretta quando serve. Nel 2008 abbiamo fatto una tappa di coletta verde per proporre la realizzazione e l'istituzione del parco archeologico di Camerina. Siamo qui per ulteriormente sollecitare questi interventi e proporre appunto l'istituzione del parco e tutte quelle misure che possono valorizzare e salvaguardare questo luogo straordinario. Il problema però è un altro. Se in un anno la natura ha distrutto ciò che è durato per due millenni e mezzo, non è un finanziamento o un ente appositamente creato che farà la differenza. Il vicino porto, insieme alla pesca strascico che nel tempo ha divorato la flora del fondale eliminando le barriere naturali alle correnti, sono la vera causa dell'erosione. Si è proposto anche di piazzare dei blocchi di cemento a pochi metri alla costa per rompere alle correnti, ma non si può fare perché il mare stesso è pieno di reperti storici che verrebbero distrutti. Se il problema è il porto allora c'è da chiedersi come è possibile che la regione Sicilia, che ha tecnici e funzionari in abbondanze ben pagati, non si sia resa conto qualche anno fa di cosa stava autorizzando.